Sono 11 le persone finite in carcere, altre 3 invece quelle sottoposte agli arresti domiciliari nell'ambito dell'operazione dei carabinieri della Compagnia di Salerno che ha portato a sgominare un'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti attiva in città ma anche in altre zone del territorio provinciale, organizzazione poi capace di penetrare anche nei mercati illeciti di altre regioni italiane, Basilicata e Puglia in particolare, associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, cocaina, marijuana ed hashish, oltre poi che diversi reati relativi ad importazioni e cessioni di queste sostanze sono quelli contestati alle 14 persone arrestate questo giovedì. L'operazione dei militari dell'arma ha portato a scoprire l'esistenza di un'organizzazione come detto dedita al traffico di stupefacenti che aveva i suoi principali referenti nel 54enne Salernitano Tiziano Memoli e nel 31enne Carmine Memoli, entrambi finiti in carcere. I due, anche coadiuvati dal loro nucleo familiare, tra le 11 persone in carcere c'è infatti anche il 28enne Gennaro Memoli, erano riusciti nel tempo ad acquisire autonomi e solidi canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente anche all'estero, in particolare in Spagna, ma soprattutto poi erano arrivati a trattare con soggetti di primissimo piano del settore del traffico internazionale di cocaina, arrivando a collaborare con questi anche per la gestione dei carichi che dell'America Latina arrivavano al porto commerciale di Salerno. Oltre 250 kg di cocaina, 7 di hashish e quasi 8 di marijuana, oltre che una pistola modificata potenzialmente letale, sono stati sottoposti a sequestro nell'ambito dell'operazione. A dare esecuzione all'ordinanza applicativa delle misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica, direzione distrettuale antimafia, sono stati ufficiali di polizia giudiziaria in servizio presso il NOR, sezione operativa della compagnia di Salerno, nei confronti come detto delle 14 persone. Di quelle finite in carcere, 5 sono originali di Salerno, una di Ponte Cagnano ed un'altra ancora di Battipaia, di Pomigliano d'Arco, Torre del Greco, Melfi e Taranto invece le altre, tutti salernitani infine, i tre sottoposti agli arresti domiciliari. Grazie a tutti!